Ma che bontà queste tartine natalizie, sono veloci da fare e piaceranno sicuramente a tutti. Con uno stampo a forma di stella ricavate le stelle dalla fetta di pane, io ne ho ricavate 4 su ogni fetta. Con i ritagli di pane poi potrete realizzare tantissime altre ricette, le trovate nel blog. Mettete poi sul fuoco una padella e quando sarà calda adagiate le steline, fatele tostare da ambi i lati, dovranno essere dorate. Poi fatele raffreddare e spalmate su tutte le stelle del formaggio spalmabile. E su metà aggiungete anche una fetina di prosciutto crudo. Coprite poi con un'altra stellina. Se lo gradite potete fermarle con uno stecchino e decorarle con una foglia di rucola e della melagrana. Servite le tartine a temperatura ambiente o appena tiepide. Facili, belle e se l'ho fatto io lo puoi fare anche tu.